Io non ho fatto la scelta della nave, io ho chiesto al nostro servizio sanitario qual è la scelta di maggior sicurezza possibile e l'azienda sanitaria ha individuato questo tipo di struttura perché può garantire l'isolamento dell'ariazione cabina per cabina, garantire le aree sporche, come si dice in gergo, cioè quelle con il virus da quelle pulite, garantire gli spazi dove il personale può cambiarsi, garantire gli ascensori dedicati per uno per l'altro, garantire anche degli spazi all'aperto, ovviamente controllato per le persone che vi vivono, perché ho sentito anche cose veramente fantasiose, queste sono persone che non sono autosufficienti ma non hanno bisogno di ospedalizzazione nelle case di riposo, se noi mettessimo tutte queste, oltretutto non ci sarebbe il posto, ma tutti dentro gli ospedali, vuol dire che noi allettiamo delle persone che non hanno bisogno di allettamento e rischiamo di dargli il colpo di grazia. Lei diceva che è una questione tecnica, stiamo tra l'altro vedendo la GNV Allegra, come detto 166 metri, 471 cabine, 56 persone all'inizio e all'interno, massimo di 200 o anche qualcosa di più, è un traghetto delle grandi navi veloci, Dicevamo prima, per spiegarlo proprio in soldoni, cosa si può fare? Isolare la singola cabina dal punto di vista della reazione, ma anche, mi metto nei panni dell'infermiero o del medico, che esce dalla cabina, finisce il turno, entra in un altro compartimento stagno, si spoglia, passa in un altro compartimento, si riveste, si lava e si riveste, passi in un altro compartimento ed è quello dedicato, magari, insomma, alla vita dei sanitari, la mense e così via, però il tutto distanziato e chiuso da compartimenti. Esatto, e senza possibilità, ribadisco, di ariazione contaminata che vada da una parte all'altra, che è un passaggio fondamentale con i percorsi chiari. Riparisco, l'azienda ha detto che questa è assolutamente la situazione più sicura in assoluto, non a caso noi abbiamo fatto questa scelta, hanno fatto anzi questa scelta, proprio per garantire la massima sicurezza possibile. L'azienda sanitaria ha avviato le procedure per l'assunzione di infermieri e os, proprio per andare a lavorare sulla nave, quindi saranno dei medici che si sposteranno sulla nave, ma anche personale aggiuntivo, giusto? Esatto, l'idea dell'azienda sanitaria è quella ovviamente di dare la massima cautela anche dal punto di vista dei professionisti che vi operano, perché il rischio non è semplicemente cosa c'è sulla nave, la parte ovviamente di contagi sulla nave, che devono essere gestiti sulla nave in totale sicurezza, ma è importante anche evitare che quel contagio venga portato fuori.